Ciao Fabio, bentornato a Verona, bello rivederti a Verona. Domanda ovvia, cosa si prova a giocare adesso con la maglia del Verona dopo aver giocato tanti anni con quella del Chievo? Ma è bello perché comunque anche quando ero al Chievo, vedere la curva che spingeva così tanto il Verona mi ha sempre fatto pensare un giorno magari di arrivare qua e essere spinto da una curva così importante. E' bello, ovviamente si pensa anche al Chievo che ormai non c'è più, perciò ho avuto un po' di dispiacere perché comunque devo tantissimo a Chievo che mi ha fatto crescere e mi ha fatto arrivare in Serie A. Sei arrivato qui in prestito con diritto di riscatto, insomma tutte quelle formule lì. Ti piacerebbe rimanere qui a lungo perché Farone gli auguriamo tutti vita eterna, però potresti essere il suo erede ed è un'eredità importante. Sicuramente mi piacerebbe, io lavoro ogni giorno per dimostrare di poterci stare e spero di convincere la società a restare poi a giugno se resterò sarò molto felice, se no se dovrò tornare indietro, tornerò indietro. Gianluca Vighini, Telenuovo. Ecco, con che prospettive sei venuto? Cosa ti hanno detto? Vieni a Verona a giocare titolare, a fare la riserva di Faraoni? No, sono venuto qui per fare la riserva di Faraoni inizialmente, poi ho parlato col mister, il mister comunque è uno che mi ha detto le cose subito come stavano, mi ha detto gioca a chi merita, noi poi abbiamo un gioco molto dispendioso, perciò sicuramente in una partita posso avere la possibilità di entrare, perciò io sto spingendo per fare del mio meglio, poi ovviamente le scelte che fa il mister e la domenica chi deve scendere in campo farà benissimo. Senti, adesso ti faccio una domanda da uno che ha guardato un po' la tua carriera da fuori, però magari tu mi darai delle motivazioni diverse. Sei partito con una grande prospettiva dal Chievo, cioè sei stato ceduto come un gioiellino del Chievo. Hai fatto bene, ma pensavo che potessi fare meglio. Tu invece cosa dici? Beh, ovviamente è difficile da gioiellino come mi hai detto tu, dopo sono andato comunque alla Sampdoria, è una grande piazza, c'era un po' di pressione. Ho fatto un'annata abbastanza bene, ci siamo salvati, poi dovevo venire qui, poi si è allacciato il discorso l'Atalanta e quando arrivi in una piazza come l'Atalanta comunque molto giovane, con dei giocatori molto forti davanti, è stata un po' dura e poi l'altra metà di anno siamo andati a Benevento e è andata male. Mi sono rimesso in gioco, sono venuto qui con la testa giusta per voler rimanere e per far bene e per dimostrare a tutti che comunque posso ancora starci. Grazie. Alberto Fabri, è la slide. Ciao Fabio, è un benvenuto anche da parte mia. Ti chiedo, domenica ti toccherà giocare per la seconda volta consecutiva 90 minuti oppure ci porti tu buone notizie per quello che concerne Faraoni? Non lo so, se non lo so sinceramente perché penso che dovrebbe rientrare in gruppo anche Faraoni e perciò il mister poi deciderà se farmi partire a me o far partire lui e niente. Una bella partita quella di domenica anche per dimenticare questo passo falso che tanti l'hanno incensato come una grande Juve ma a me non è passo assolutamente una grande Juve, basta vedere due che ha fatto su due nostri errori. Ma quanto è importante la partita di domenica visto che toccando Fara facendo gli scongiuri del caso, in caso di successo il Verona farebbe un ulteriore passo verso l'obiettivo principale, ovvero la salvezza? È importantissimo perché comunque è uno scontro diretto perciò scenderemo in campo sicuramente per vincere siamo in casa e perciò ovviamente vincendo arriveremo quasi alla salvezza perciò sicuramente ci sarà molta attenzione e molta considerazione. Luca Chiarini, tutto Mercato Web Ciao Fabio, anche da parte mia e ti faccio una domanda su Tudor innanzitutto ti chiedo che ruolo ha avuto lui nel tuo arrivo qua a Verona se vi eravate sentiti ancora prima della firma sul contratto e se ci sono, visto che hai lavorato con Gasperini, delle somiglianze a livello di proposta tattica con l'allenatore dell'Atalanta Ci siamo sentiti appena dopo la firma ci sono molte somiglianze con il gioco di Gasperini perciò anche quando il direttore mi ha chiamato per far sì che questa cosa andasse in porto mi ha detto che comunque già sapevo presso a poco le cose che voleva il mister perché erano quelle che voleva anche Gasperini perciò sono stato anche invogliato in questo perché ero già pronto a quello che mi chiedeva Poi ti chiedo un'altra persona che trovi qui, che conosci molto bene Gianluca Caprari ti chiedo se ti aspettavi comunque un rendimento di questo livello da parte sua o se l'hai trovato migliorato molto più di quanto ti potessi aspettare Gianluca Caprari lo conosco da 5-6 anni e lo vedo tutti i giorni allenarsi è sempre stato secondo me uno dei giocatori più forti che comunque mi sono allenato con tanti giocatori ma uno che nel breve può fare la differenza e me l'aspettavo e glielo auguravo perché non è mai riuscito a fare quello scatto per fare così tanti gol e perciò spero che continui così per il bene suo e del Verona Grazie A chiudere Tommaso Badia Calcioellas Ciao, benvenuto anche da me Volevo chiederti, insomma Tudor ha parlato di te anche come terzino sia destro che sinistro Volevo chiederti se ti vedi anche spostato sull'altra fascia o se tu comunque preferisci rimanere a destra Quello che mi chiede il mister cerco di fare meglio che posso perciò se mi chiede di giocare a sinistra proverò a giocare a sinistra ovviamente sono Faraoni e Darkone sono due giocatori molto forti perciò quando il mister mi chiamerà in causa cercherò di fare bene E poi volevo chiederti, hai accennato prima il fatto che avresti potuto tornare cioè venire qua all'Ellas prima Volevo chiederti un po' come mai non si è concretizzato perché insomma il tuo nome effettivamente negli ultimi anni è circolato più di una volta per quanto riguarda il Verona Non è andata in porto perché poi è arrivata l'Atalanta è stato tutto di fretta, mancavano pochi giorni a fine del mercato e alla fine la prevassa l'Atalanta non è stato niente di particolare